Ben ritrovati in questo nuovo aggiornamento. Parliamo del cambiamento, seppur veloce, che interesserà il nord per la giornata di venerdì 12. Instabilità in entrata da occidente per colpa di un passaggio nel sud dell'Europa determinerà un cambiamento anche sulla nostra penisola, portando nuovi temporali sulle regioni del nord, ma scopriamo le zone a rischio temporali. Le zone temporalesche le troviamo sul nord-ovest, ad iniziare sul Piemonte, Valle d'Aostra, Lombardia. A seguire si sposterà tutto verso il centro-nord, verso l'est, interessando il Veneto, il Trentino e la bassa Lombardia. D'infine anche il nord-est sarà interessato dai temporali, Friuli, Trentino e anche Basso Veneto. Seguiranno ulteriori aggiornamenti e, se non l'hai ancora fatto, iscriviti e attiva la campanella. Ciao!